Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia e studio Monica Pelliccia. Apriamo con la 11 coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. In FIPILI è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze a partire da oggi. La FIPILI è di nuovo transitabile su quattro corsie, tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino i lavori si sono conclusi con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Prima di salutarci segnaliamo che le corse di Toremar delle 14.55 e delle 16.05 da Piombino a Cavo sono state cancellate a causa del maltempo. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!